ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto interessante perché perché andremo a sistemare la mia cassettiera nuova di alex andremo a sistemare perché ho comprato dei divisori o un modo diciamo tutto mio di vedere la mia postazione e anche per facilitarmi la cosa diciamo quando mi trucco se volete sapere come lo sistemata godiamoci il video e noi ci vediamo alla fine per i saluti ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale è 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 Grazie a tutti. 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 Bene ragazzi, questa è la mia cassettiera finita. Ovviamente sto per pensare a un altro cambiamento, quindi tenete d'occhio il mio canale perché a breve ci sarà un altro update per quanto riguarda la cassettiera e per quanto riguarda anche la postazione. Non lo so, tenete d'occhio perché ci sarà qualcosa in futuro. Credo che ci sia qualcosa poi in futuro di cambiamento e altro perché non riesco a stare ferma. Per quanto riguarda questo video è tutto, spero che la mia cassettiera vi sia piaciuta, ovviamente fatemelo capire con un pollice in su e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!